Di farvi sapere una cosa, che praticamente YouTube a breve implementerà un modo per riconoscere i video presi e caricati da altre persone che non sono i proprietari di quei video Quindi succede un casino, succede veramente un casino Quindi perché succede un casino? Perché mo gli YouTuber toccherà che imparano a giocare a Fortnite È un casino, è un dramma Invece di fare action a pazzesche highlights di Fortnite perché non ci sanno giocare, tocca che imparano Porca troia Ma vi rendete conto che tocca usare sto robo, sto robo futuristico, ma che è? Che in dieci minuti facevo il video dove rubavo le clip agli americani senza chiedere se potevo usarle sul canale mio Ma invece mi devo impegnare, no? Mi sa che non v'è chiaro che sta roba alimenta una fracca di dissing perché io magari un giorno non ci ho upload Allora boom, chiamo ciccio e faccio ciccio, non è che posso fare la reaction alla tua prima volta su Fortnite È un video di merda ma ci metto tre secondi Lui fa, sì sì, te preoccupate, te preoccupate, boom, io lo faccio e bam, strike al canale Perdi in cibacco ragazzi Uber, toccherà che imparano a giocare a Fortnite È un casino, è un dramma Invece di fare action a pazzesche highlights di Fortnite perché non ci sanno giocare, tocca che imparano Porca troia Ma vi rendete conto che tocca usare sto robo? Sto robo futuristico, ma che è? Che in dieci minuti facevo il video dove rubavo le clip agli americani senza chiedere se potevo usarle sul canale mio Ma invece mi devo impegnare, no? Mi sa che non v'è chiaro che sta roba alimenta una fracca di dissing Perché io magari un giorno non ci ho upload, allora boom, chiamo ciccio e faccio ciccio Non è che posso fare la reaction alla tua prima volta su Fortnite È un video di merda, ma ci metto 3 secondi Lui mi fa Sì sì, te preoccupate, te preoccupate Boom, io lo faccio e bam, strike al canale Ah Blur, ma ovvio che puoi fare le video reazioni sulla mia partita Che c'è, te ti preoccupate? A proposito, mi hai detto che il video mio di Fortnite è una merda? A voi fa parte in dissing? Se devo andare a menare l'euro, che devo fare? No, aspetta un attimo Blur, mo ho capito Cioè tu praticamente stavi a dire che facendo il video sulla reaction sarebbe stato un video di merda Ah, non ho capito adesso Te voglio bene Buongiorno, io mi sono appena svegliato Ciao amici, come state? Vi voglio dire una cosa senza far polemica però Perché dopo quello che ho passato ho capito che è la cosa più stupida da fare su YouTube Però mi sento un po' tirato in mezzo Visto che io ho fatto la reazione nel primo video di ciccio Tra l'altro gli ho chiesto il permesso Vi chiedo solo di non fare disinformazione Molto chiaro, il nuovo sistema è fatto per trovare i ricaricamenti dei contenuti Quindi chi prende il contenuto lo scarica e lo ricarica Oppure chi prende delle live e le ricarica Non altri contenuti Quindi è più facile che non ci siano più le top tutte uguali che le reaction Magari all'inizio non funzionerà Però diciamo le cose come stanno e non... diciamo cose non vere Purtroppo c'è una brutta notizia Le reaction, le prove a non ridere, le reazioni alle canzoni, cose Mi sono appena svegliato Mike, per cari di Dio non volevo metterti in mezzo Nel senso le mie storie hanno più una cosa carina Fa me blur e quel minchione de gabbo Perché per una volta, ironicamente Ma perché? Perché per me fondamentalmente Qualsiasi persona può caricare qualsiasi contenuto Non mi dà fastidio Cioè nel senso Volete fare un trattenimento con qualsiasi video? Fate un trattenimento con qualsiasi video Io non ho problemi Confermo al 100% Ti ho dato io il permesso di poter fare la reaction sul mio primo video Ma mi ha fatto anche tanto piacere Quindi ti ripeto, non era... Mi è dispiaciuto che l'hai pensata così Ti ripeto, era più una cosa fra me e blur Come dicevo, era più una cosa carina fra me e blur Perché io pensavo che lui diceva che Il video mio che faceva cacà Invece no, era quello suo Chiuso là Poi io non mi riferivo a nessun altro Era molto più dolce come cosa Gabbo tiè Comunque sì, poi io pensavo che lui dicesse Diceva, ma comunque Una cosa sorge spontanea Ieri mi crasciava Instagram Gabbo Se vuoi botte pure tu Ti aspettiamo i blur all'euro Ti facciamo un culo come un secchio Boh Comunque Per concludere Volevo dire la mia Non mi fanno impazzire le video reaction Sui video di Fortnite e di altre persone Però Ognuno sul canale può portare quel che vuole Se il pubblico lo guarda È giusto che lo porti Cioè almeno io adesso la penso così Ognuno sul suo canale può fare quel che vuole Se la può gestire in maniera autonoma Però gli altri sono anche È anche giusto che dicano la loro Che se non gli piace o meno Quindi Comunque sì Poi io pensavo che lui dicesse No? Diceva Ma comunque Una cosa sorge spontanea Ieri mi crasciava Instagram Gabbo Se vuoi botte pure tu Ti aspettiamo i blur all'euro Ti facciamo un culo come un secchio Boh No ragazzi Sono al parcheggio dell'aeroporto Ciao ciccio Sono stato in aeroporto Ti rispondo che mi sta annoiando Comunque tranquillo Lo so Sono d'accordo con te Ognuno è libero di dire E fare quello che gli pare Poi a me Se a qualcuno non gli piace Il mio video I video reaction Non me ne frega niente Però Però il problema è che Si sta facendo passare Una cosa o un'altra Perché la regola che entrerà Non è come l'ha detta Blur Cioè non c'entra proprio niente Non facciamo Passare informazioni sbagliate Poi che a lui non gli piacciono Quei video Ste cavoli A me non mi piace il cordon bleu Per dirci bacco ragazzi Mi dispiace aver creato Delle tensioni fra persone Con le mie storie Ho messo in mezzo ciccio Ma avrei potuto mettere in mezzo Qualunque altro youtuber Se ce ne sono altri A cui è stata fatta la reaction Alla loro prima partita su Fortnite Il mio punto è stato un po' frainteso Il mio era solo uno sfottò E un po' una critica Alle persone che Usano video di altri Sul proprio canale E li monetizzano anche E anche che fanno le reaction Alle prime partite di Fortnite Perché sono dei video di merda Prima Ninja non era forte Guardate Qui che fa? Costruisce un muro Invece di costruire Una torre Eiffel Come fa adesso Ma sul serio? Ma di che stiamo parlando? Immaginate un po' O Cristo che fa video di Fortnite E tipo Gli fanno la reaction Alla sua prima partita su Fortnite E ci fanno più visual Del tizio stesso E seguivano pure i sordi E il tizio stesso Sta tipo Nel senso che noi in Italia C'abbiamo tanta gente Che è forte ai videogiochi E paga questa cosa Ron su FIFA Ciccio su Fortnite Potrei continuare all'infinito Nel senso Se non vuoi invece essere forte Sui videogiochi C'è l'intrattenimento Però fallo sul tuo prodotto Non su Quindi perché succede un casino? Perché mo' gli youtuber Toccherà che imparano a giocare a Fortnite È un casino È un dramma Invece di fare action A un pazzesche highlights Di Fortnite Perché non ci sanno giocare Tocca che imparano Porca troia Ma vi rendete conto Che tocca usare sto robo Sto robo futuristico Ma che è? Che in dieci minuti Facevo il video Dove rubavo le clip agli americani Senza chiedere se potevo usarle Sul canale mio Ma invece me devo impegnare No Mi sa che non v'è chiaro Che sta robo Menta una fracca di dissing Perché io magari un giorno Non c'ho upload Allora boom Chiamo ciccio Ci faccio a ciccio Non è che posso fare la reaction Alla tua prima volta su Fortnite È un video di merda Ma ci metto tre secondi Lui fa Sì sì Te preoccupate Te preoccupate Boom Io lo faccio E bam Stryker canale